Il mio amico Nervetti, attenzione, adesso andiamo a fare l'ADH qua in Valvigezzo, posti spettacolari, non so che montagne sono però... Il mio amico Nervetti, attenzione, adesso andiamo a fare l'ADH. Attenzione, la 29 di Aurelio, attenzione, la Yeti, attenzione ragazzi, Yeti perché è una Iena, ma come è la Diera, ma non è la Diera, ma come è la Diera, ma come è la Diera... Diera... Oh! 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 Grazie a tutti Vai vai Superietti in accio Attenzione Questa è una cagata Dai fa niente Madonna Lui passa dritto Io devo girarla Cazzo Costa i 29 Grande Minchia grande Aure Che lì ne ha fatto Madonna Bravo Bravo È esaltato È esaltatissimo Ragazzo Grazie a tutti Grazie a tutti cazzo vai Auri Minchia Minchia mica che sabbia oooopla Opa! Grazie!